Grazie a tutti. E' stato una bella cosa, sono stato ad Atene al Megaro Musicis, un gran bell'auditorium con un'orchestra straordinaria, è stata una bella cosa. Poi sai quando si canta c'è sempre l'emozione della prima volta però dà un senso davvero alla nostra esistenza, almeno per noi artisti è importante. Diciamo che oggi alcuni artisti italiani negli ultimi 10-15 anni sono riusciti a sfondare all'estero, penso naturalmente alla Pausini, a Ramazzotti, però negli anni 70 a parte Modugno c'erano pochi esempi. Tu sei riuscito, qual è stata la tua ricetta per farti conoscere nel mondo latinoamericano sostanzialmente? Ma credo il fatto di non avere ricette, nel senso che mi offro sempre senza trucchi e senza inganni. Io ho scoperto dopo tanti anni che esistono due categorie di persone che mi stanno intorno. Ci sono gli artisti veri, poi ci sono quelli che fanno carriera. Si può anche fare carriera senza essere dei veri artisti. A me piacciono molto gli artisti veri, quelli che comunque mantengono la loro dignità in qualunque momento, anche quando magari non hai riflettori addosso, quando sembra che non tutto vada bene. Tornando alle ricette, ripeto, io mi sono offerto assolutamente con lo stesso gusto con cui cantavo per i miei amici quando ero all'università a Roma. Non cambia nulla. Uno stadio pieno oppure quattro amici per i quali canti, per me non cambia davvero nulla. E dicendo questo tu ti riferisci anche al fatto che sei appunto uno degli artisti, dei cantanti meno classificabili della musica italiana. Guardiamoci, uno dei sonori delle sequenze, delle scene, che Marisa ha estrapolato dalle te che erai su di te. Agraggiano è tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello e cercherò una te. Lo dirò con i colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note. Se tu non ci fossi, mi potrei sentire. Animale ferito, ma non posso stare male. Se la vita mi regala schiaffi e tu ami il mio dolore. E l'amore che mi sveglia e mi trascina in fondo al mare. E l'amore che confonde tutto, vivere e morire. Una lama dentro me. Sorridevi quasi. Sì, perché è come vedere il proprio figlio. Sì, è quello doveva essere, mi ricordo la canzone, l'85, per cui sono passati un po' di anni. Un po' ingessato, però sì, niente. Sono cose che indubbiamente fanno parte del passato. Non l'avevo mai visto questo filmato per altro. Grazie. A proposito del tuo essere famoso all'estero. Prima guardavamo insieme il servizio Daniele Silvestri e gli intillimani. E in quel fine, il backstage, sono gli intillimani che cantano un tuo brano. Sì. Infatti è molto scaricato su YouTube, ho visto. Insieme cantano. Ma non l'avevamo neanche preparato. Ci siamo ritrovati. Una serie abbiamo improvvisato. Un mio brano, che loro sono stato molto lusingato, perché per me gli intillimani erano la leggenda di me universitario. Per cui incontrarli e vedere che addirittura conoscevano i miei brani, sono stati molto gentili. E mi hanno confermato il fatto che quando ci sono veri, grandi artisti, si accompagna quasi sempre la vera umiltà. E insieme quindi abbiamo fatto mio brano, che è paesaggio, in spagnolo è paesache. E' diventato... Tra le... diciamo nel mettere insieme il tuo ritratto così difficile da catalogare, da vero musicista, da vero artista, uno delle componenti, secondo qualcuno, è stato il disimpegno, cosa che tu invece hai smentito. Beh, intanto ci hai detto questa cosa, la passione universitaria per gli intillimani. Io canto davvero per il gusto, siccome vengo da frequentazioni scolastiche, io ho avuto sempre una grande considerazione per i grandi del passato, che fosse letteratura, che fosse musica, per cui mi sembra tutto abbastanza disimpegnato. Se uno fa il confronto con Beethoven, con Mozart, con Giuseppe Verdi, con Donizetti, eccetera, mi sembra tutto disimpegnato, per cui ritengo di prendere tutto con una certa leggerezza. E' detto questo, la musica credo che dia un senso alla vita, ma non solo di chi la fa, come me. Ma io se non avessi fatto il cantautore, comunque mi sarei riempito la vita di musica, perché è uno dei motivi per cui vale la pena di vivere, davvero. Guardiamoci un altro videoclip, un'altra scena dal tuo repertorio, sempre estrapolato dalle nostre... Tutte cose stranissime che... Vediamo se ti farà sorridere anche questo. Fa che io canti presto le cose che sei Fammi fermare il tempo che danza tra noi Lascia che sia il respiro finché tu ci sei Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te E per noi diventasse respiro quell'esserci amati Annullati, divisi, rincorsi, appagati Voglio che sia il respiro l'amore tra noi Per non piegarsi dentro, per darsi di più Lascia che sia il respiro finché tu ci sei Ci sono questi ritornelli un po' alla francese Con le armonie che si inseguono, non si interrompono mai Sempre un rimando a qualcos'altro che viene dopo Sì, io credo di essere uno dei pochi cantatori italiani Che non ha mai guardato eccessivamente all'America Come punto di riferimento Che poi sono... Sì, non siamo in tanti, potrei dire forse Per carità, mutatis mutandi Se non voglio andare allo stesso livello Ne parlo con tutto rispetto Ma gente come Ivano Fossati, come Riccardo Cocciante Abbiamo più un'educazione mediterranea forse O comunque latina E credo che si senta Mi ha chiesto se mi veniva da ridere C'era una certa emozione invece nel vedere quel video Perché arrivò in quel contesto Anche una telefonata Me ne sono ricordato adesso vedendo tutto l'insieme Di Domenico Modugno Che mi disse delle cose bellissime In diretta su Rai 1 Perché cantai anche il suo brano meraviglioso Per cui è legato anche a questa cosa bellissima Perché poi io amo Pur facendo un artista Però gli artisti, i colleghi Quando sono davvero grandi Non riesco neanche a sentirli come concorrenti Li amo e basta Prima che ci collegassimo Che andassimo in diretta Parlavamo prima di questo Di cosa parlavamo? Di un programma nuovo Sì, siamo qui anche per parlare Del tuo ennesimo grande ritorno Stavolta ci rubi un po' il mestiere E farà il conduttore di un talk show Su Sky Music Life Credo sia il canale Il canale 856 si chiama Music Life Appunto è un canale musicale Tra l'altro ogni mercoledì alle 20 e 30 Lo stesso orario 21 e 30 Lo stesso orario in cui andiamo in onda Mercoledì Allora, casomai Andate un po' di là E poi tornate di qua Ho visto che parlano ultimamente Di sinergia Di crossover Di passare da un canale all'altro Sì, è un programma Che ha per titolo Dizionario dei sentimenti In cui mi fa piacere Perché potrò finalmente Davvero Dare sfogo A tutta la grande passione Che ho A esprimere tutte le grandi cose Che mi vengono in mente Quando parlo della musica Quindi ospitare anche colleghi Che amo Per esempio Dopodomani Ci sarà Mariella Nava Che è una grande realtà italiana Poi ci sarà Enzo Gragnagnello E poi tanti altri Ma non solo cantanti Ci verranno anche operatori Un giorno magari Se non coincidono le cose Potresti pure venire tu Parliamo di Perché la musica ha senso Perché rende bella la vita Ecco Perché molto spesso Mi pare che ci sia Ci siano molte prevenzioni Molti luoghi comuni Sulla musica Per esempio Chi ascolta il rock Sembra che non debba ascoltare Le belle ballate italiane Io credo di avere Nei miei Nei miei ascolti Passo da Da giovanotti A Mozart Con grande naturalezza E credo che la musica Dovrebbe essere questo Vediamoci un'altra Teca Su Franco Simone Conto le strade Da quelle percorse Da quelle che aspettano me Conto le donne Cercate e lasciate Da quelle che mi hanno ferito Conto gli amori Mi sa cosa 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 ti ha fatto vedere in mente invece? Allora mi fa venire in mente che intanto fa parte, non so dove abbiate trovato questi video che non ho mai visto, lì dietro intanto c'era anche mia moglie nella zona coro, poi non ha voluto cantare per quanto io l'abbia pregata spesso ma proprio no. Dice che basto io in famiglia Però la canzone non è assolutamente popolare Ma mi ricordo quando l'ho composta Presi un'idea C'era un'idea letteraria Avevo letto un libro di Alberto Bevilacqua E c'era una Non mi ricordo come si chiamasse Però c'era una frase bellissima Parlava di tutti i suoi libri che avevano costituito un po' il centro della sua vita Che scomparivano e venivano bruciati, non mi ricordo E allora facevo un po' un parallelo sul tempo che passa Insomma è complesso da spiegare Però mi ha fatto ricordare anche questo Allora io vorrei parlare anche velocemente di quest'altro progetto Artisti italiani per l'Africa Con Claudia Coll Un cd Guarda le mie mani In cui ci sei anche tu Di che si tratta? Si tratta intanto Claudia Coll mi ha chiamato Mi ha chiesto Lavoriamo insieme perché facciamo i docenti Le di recitazione Io di canto Presso la Star Rose Academy Accademia per nuovi talenti Mi ha chiesto un giorno di dargli una mano Per chiamare appunto a raccolta un po' di artisti disponibili a dare un brano Per costruire I proventi serviranno davvero per costruire un ospedale autentico Bellissimo Ho visto il disegno e le prime fotografie In Burundi Siccome noi ci lamentiamo sempre Ma insomma se facciamo il confronto con come si viva da quelle parti Siamo assolutamente dei privilegiati Per cui io stesso ho fatto un po' da consulente artistico Chiamando a raccolta Quindi ma gente veramente di altissimo livello È venuto fuori un disco evento al di là della mia presenza Gente come Nomadi, Antonella Ruggero, Fausto Leali, Maria Lanava, Marco Ferradini, Ron, Popovia, Nino D'Angelo Quindi progetto musicale benefico Guarda le mie mani che si può trovare in edicola Ma ricordiamo anche il tuo grande ritorno in televisione Dopo Music Farm E ti devo dire che io ho seguito quell'edizione e a me è piaciuta molto Ti ringrazio È piaciuta la mia presenza o il programma in sé? In generale ma anche la tua presenza Sentirvi cantare A me è piaciuto cantare Il resto sorvolerei Anche Dolcineria qualche giorno fa ha detto a Scalo 76 Che è rimasta traumatizzata da quell'esperienza Sì ha detto anche che doveva andare Non a niente Anzi preferisco Va bene Chiudiamo la parentesi Parliamo la prossima volta quando mi inviteremo Sennò torno alla categoria iniziale Quando ti ho detto all'inizio Quello che penso Sì sì Allora Diamo l'appunto music live su Sky Ogni mercoledì Franco Simone Grande ritorno Grazie Tu sei sempre così buono o per l'occasione? Non so perché sei straordinario Grazie Grazie a te davvero Allora a presto Grazie a voi Ciao Grazie a tutti